Armando, parlate! Non sembra voi siate malata! Non sempre vi siete lavata, eh? Una vita spesa fra palco e realtà. Gigi Proietti, l'ultimo colpo di scena, l'ultimo applauso, se l'è preso proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno, mentre tutta l'Italia lo stava celebrando per il traguardo appena raggiunto e lui lottava tra la vita e la morte in una clinica romana per problemi cardiaci. Capace di passare dal tragico al comico con una naturalezza propria solo dei grandissimi, Proietti è stato più di un attore. È stato un maestro per tante giovani generazioni che si sono nutrite del suo talento. Con l'Abruzzo c'era un legame forte, non soltanto per la contiguità geografica con la sua Roma. Ha mosso i primi passi da attore proprio all'Aquila, nel TSA, di cui poi divenne direttore a cavallo fra gli anni 80 e 90 e ancora nel 2000, quando il TSA si costituì come teatro stabile d'Abruzzo ente teatrale regionale. Il suo ritorno all'Aquila avvenne nei primi giorni dopo il terremoto del 2009 e fu commovente, proprio nei luoghi che aveva vissuto e che non riconosceva più spazzati dalla furia di quella notte. Il premio Flaiano gli fu consegnato a Pescara nel 1993 per la migliore interpretazione del film Un figlio a metà e poi nel 2000 per la sezione teatro con l'interpretazione dei dialoghi di Platone. Due dei tanti pezzi di bravura dell'ultimo dei mattatori dei palcoscenici italiani, di un attore capace, con la sua sola presenza, di riempire la scena e di calamitare l'attenzione del pubblico. Come riesce a fare in questo breve filmato recuperato dagli archivi dell'Associazione Bersaglieri di Pescara, in cui, dal celeberrimo baule di Ammigliocchi Please, estrae un cappello da bersagliere e dedica una poesia di Trilussa alla sfilata che si sarebbe tenuta a Pescara per il 44esimo raduno del 1996. Eccola qua, io la apro e tiro fuori dalla cassa gli oggetti che mi servono per lo spettacolo. Per esempio tiro fuori cappelli, cappelli di vario tipo. Eccola, guardate questa piuma per esempio, questa è una piuma da cappello di Guascone, di Cirano, di Bergerac, o questa piuma per esempio, beh questa è un'altra piuma, questa è la piuma, il piumaggio, non so come si può dire, del cappello dei bersaglieri. Ma che c'è il cappello dei bersaglieri con il mio spettacolo? C'entra, perché in questo momento adesso a Pescara si sta svolgendo il 44esimo raduno nazionale dei bersaglieri. E per l'occasione si terrà un concerto di fanfare dei bersaglieri. E io non posso essere lì, perché sto qui, non ho il dono dell'ubiquità, perlomeno fino ad ora. Però posso dedicarvi un pensiero, un sonetto di Trilussa. Appoggio un attimo il cappello, inforco gli occhiali, perché a quest'ora, a quest'età comincia a fare un po' scuro. Ed eccolo qua, questo sonetto si intitola La Vorpe Antimilitarista. Un cappone diceva, stamattina, che ho veduto passare i bersaglieri, mi è venuta la pelle di Gallina. Quanti figli di madre ci avevano cuciti sul cappello. Va basti a dire che in testa a un colonnello ci ho rivisto le penne di mi padre, ci ho rivisto la coda di un fratello. È una vera barbaria, strillò La Vorpe Rivoluzionaria. Bisogna cominciare l'agitazione per abolire l'esercito in maniera di buttaggiù qualunque sia barriera fra nazione e nazione. Arza la voce tu, che c'hai coraggio. Se te decidi a demolire il riparo che t'hanno messo intorno al Gallinaro, all'occasione te proteggerò. Appena trovò libero il passaggio, la Vorpe c'entrò subito e si intenne che il povero cappone organizzato morì ammazzato ma sarvò le penne. Un saluto cordiale e affettuoso a tutti i bersaglieri italiani. E' stato molto bello.